Salviamo Palazzo Tiene. Anche oggi, come abbiamo fatto per primi, sin dall'8 luglio del 2017, noi di Rete Veneta rilanciamo la nostra battaglia al fianco dei cittadini, quella per salvaguardare l'antica sede di BPV, un palazzo patrimonio dell'UNESCO, con le preziosissime opere d'arte al suo interno. E torniamo a rivolgerci alle associazioni culturali e alle forze politiche ricordando a tutti quel che avevamo ottenuto dal governo, un impegno formale a fare di Palazzo Tiene, un museo statale aperto al pubblico. Eppure, dopo che a settembre alcuni dipinti dell'antica sede di BPV sarebbero andati all'asta a Firenze, oggi sarebbero stati battuti all'asta, il condizionale d'obbligo data la riservatezza con cui tutto avviene, stampe e oggetti di Palazzo Tiene. Alcuni tappeti sarebbero andati venduti a prezzi molto molto contenuti, addirittura a poche decine di euro. Più eclatante il lampadario di Murano Ottocentesco, quello che avrebbe illuminato il salone palladiano di Palazzo Tiene, un pezzo unico nell'arte vetraria veneziana, aggiudicato per poco più di 25.000 euro, comprese tasse e diritti. Ora, quello che più di tutto fa rumore è il silenzio delle istituzioni, a tutti i livelli. Oggi, in piena pandemia Covid, sono i lockdown, le limitazioni, le chiusure imposte a svuotare il centro storico di Vicenza. Ma quando tutto finirà, da qualche parte dovremo ricominciare. Un museo come Palazzo Tiene sarebbe un ottimo punto di partenza, un volano per il turismo, per la cultura, per il commercio della città del Palladio. Ma se Vicenza si farà sottrarre l'antica sede di BPV, allora il centro rischia di restare un luogo desolato, pieno di silenzio, come quello che circonda la vicenda di Palazzo Tiene.